è un forlì che non muore mai biancorossi che escono indenni anche dal tardini confermando in toto la propria attitudine da squadra assolutamente priva di timori reverenziali verso chi che sia che si chiami venezia o parma galletti pericolosi già al 26esimo con il destro giro di cappellini anche se poi è il parma a prendere in mano le redini del match turin è strepitoso prima sul diagonale di calaiò poi sul colpo di testa di lucarelli con un istinto prodigioso ad inizio ripresa però il parma passa in vantaggio barai si beve ad ovati e di sinistro infilza la porta biancorossa come detto però questo non è un forlì che si perda d'animo dentro bardelloni al posto di succi ed è proprio l'ex sant'arcangelo a ricevere da spinosa e ad inventarsi un esterno destro che non ammette repliche per il pareggio all'ottantottesimo nell'ultimo minuto di recupero è poi a limia ad avere addirittura la palla del sorpasso ma questa volta bassi non si fa sorprendere finisce uno a uno e ai ragazzi di gadda va già bene così e Grazie a tutti